Un edificio anonimo e borghese contiene un appartamento trasformato in una vera e propria opera d'arte. Nel giugno del 1929 Giacomo Balla, pittore, scultore, scenografo e autore di Paro Libere, esponente di spicco del futurismo, firmando assieme agli altri futuristi italiani i manifesti che ne sancivano gli aspetti teorici, si trasferisce da Torino con la moglie Elisa Marcucci e le figlie Luce ed Elica nel quartiere romano della Vittoria. Vi entrano a malincuore, ma diventerà la casa della loro vita, un universo pieno di luce, colore, forme e movimento che riflette le idee espresse nel manifesto sulla ricostruzione futurista dell'universo, firmato appunto da Giacomo Balla e Fortunato De Pero nel 1915. Il manifesto esprime l'esigenza di un'arte totale che influenzi l'esistenza attraverso una radicale trasformazione dell'ambiente. La casa del pittore diventa così un laboratorio di sperimentazione, fatto di pareti e porte dipinte, un'officina in cui quadri, disegni, sculture convivono con mobili arredi, utensili, abiti e tanti altri oggetti da lui disegnati. Un unico e calidoscopico progetto totale in cui funzionalità ed estetica creano un connubio nuovo e vitale. L'arte investe tutto e gli oggetti ideati e costruiti per l'uso quotidiano, tavolini, sedie, scaffali, cavalletti, posacenere, piatti, piastrelle, rendono l'appartamento un luogo magico di metamorfosi. Casa Balla, salotto intellettuale per molte personalità dell'arte e della cultura, chiuse le sue porte negli anni 1990 con la scomparsa delle due figlie dell'artista, Luce e Delica Balla. Poi, dichiarata di interesse culturale dal Ministero della Cultura nel 2004, è stata riaperta al pubblico per la prima volta nel giugno del 2021.